Ciao a tutti amici di Focus Arc e benvenuti al nostro confronto tra Realme 7 Pro e Realme 7 due fratelli che sono stati posizionati nella fascia medio-bassa del mercato ma che allo stesso tempo presentano al proprio interno tante piccole caratteristiche tecniche in grado di innalzarli ad un livello superiore abbiamo voluto fare questo confronto per aiutarvi proprio a capire quale acquistare in quanto comunque la differenza di prezzo è davvero minima e cerchiamo di capire proprio da vicino qual è il migliore anche se naturalmente date le premesse data proprio l'essere Pro sicuramente il Realme 7 Pro dovrebbe surlassare completamente il Realme 7 ma adesso li vediamo da vicino, li mettiamo a confronto tutto dopo la nostra sigla Le prime differenze le abbiamo da un punto di vista puramente estetico in quanto il Realme 7 raggiunge 162,3 x 75,4 x 9,4 mm di spessore mentre il Realme 7 Pro si ferma a 160,9 quindi è più corto di circa 2 mm per 74,3 quindi è più stretto di 1 mm per 8,7 mm di spessore quindi uno spessore inferiore di 0,7 mm e devo dire che soprattutto quest'ultimo aspetto è davvero importante perché nel momento in cui voi lo avrete tra le mani non sentirete tanto la differenza in termini di lunghezza e di larghezza quanto proprio nello spessore perché il Realme 7 Pro è davvero molto ma molto più sottile stesso discorso vale per il peso perché il Realme 7 raggiunge 196,5 grammi contro i 182 grammi di Realme 7 Pro anche in questo caso molto ma molto più leggero che ne facilita sicuramente la portabilità quindi da un punto di vista di portabilità il Realme 7 Pro è sicuramente migliore esteticamente però sono molto simili l'uno con l'altro abbiamo una scocca in plastica sul Realme 7 e una scocca in policarbonato sul Realme 7 Pro da un punto di vista tattile non cambia più di tanto abbiamo entrambi scocche soprattutto nella parte posteriore opache che non trattengono particolarmente le ditate e quindi non sarà necessaria una pulizia superiore alle aspettative le camere sono posizionate in alto a sinistra nel caso del Realme 7 sono tutte in verticale mentre nel Realme 7 Pro abbiamo un rettangolo un po' più largo però sono anche in questo caso abbastanza in rilievo rispetto alla back cover ciò significa che in entrambi i casi nel momento in cui le andrete a posizionare su un piano di lavoro balleranno non poco e potrebbero dare un po' di fastidio sui bordi abbiamo tutta la connettività entrambi presentano i tasti del volume sul bordo sinistro con il carrellino per le sim superioremente abbiamo i microfoni mentre sul lato destro tasto di accensione e spegnimento come nel caso del Realme 7 il sensore per le impronte digitali quindi sarà posizionato sul bordo e non all'interno del display come accade sul Realme 7 Pro inferioremente infine tra un opposto l'altoparlante il jack da 3.5 mm e in entrambi i casi una USB Type-C 2.0 quindi senza uscita video anteriormente notiamo altre differenze infatti il Realme 7 presenta un display più ampio raggiunge 6.5 pollici è un IPS LCD 16,5 cm di diagonale 2400 x 1080 pixel con risoluzione quindi Full HD Plus ha un rapporto schermo corpo del 90,5% 405 ppi e rapporto d'aspetto 29 la sua caratteristica principale è naturalmente la frequenza di aggiornamento perché raggiunge un refresh rate di 90 Hz cosa che manca sul Realme 7 Pro perché in questo caso abbiamo un display AMOLED da 6.4 pollici 16,3 cm di diagonale risoluzione 2400 x 1080 pixel quindi anche in questo caso Full HD Plus 409 ppi un rapporto schermo corpo un po' più ampio parliamo di 90,5% contro 90,8% e anche in questo caso Gorilla Glass per la protezione contro urti e graffi la differenza sta proprio nella qualità del dispositivo o meglio nella tipologia del pannello utilizzato perché sul Realme 7 abbiamo IPS LCD sul Realme 7 Pro abbiamo un Super AMOLED la differenza è notevole non tanto in termini proprio di fluidità perché chiaramente il Realme 7 con i suoi 90 Hz avrà una fluidità maggiore però dall'altro lato abbiamo un Realme 7 Pro che riesce a garantire un rispetto di tutte le tonalità maggiore rispetto al Realme 7 a prima vista le differenze potrebbero apparire minime perché in entrambi i casi abbiamo comunque un buon dettaglio colori abbastanza freddi e una buona nitidezza complessiva però a lungo andare la qualità del Super AMOLED si fa sicuramente sentire e il Realme 7 Pro è anche in questo caso migliore sotto il cofano invece trova a posto un processore che è completamente differente perché sul Realme 7 abbiamo Mediatek Helio G95 con processo produttivo a 12 nanometri octa-core a 2,05 GHz di frequenza di clock accoppiato con una GPU Mali G76 MC4 è un processore Mediatek pensato per il gaming quindi comunque abbastanza performante dall'altro lato invece sul Realme 7 Pro troviamo il Qualcomm Snapdragon 720G usatissimo nel corso del 2020 ed è solamente un gradino inferiore a 765G che vediamo sulla fascia medio-alta ad esempio mi vengono in mente Oppo Find X2 Neo e similari è un componente con processo produttivo a 8 nanometri anche in questo caso octa-core a 2.3 GHz di frequenza di clock con GPU Adreno 618 entrambe le nostre configurazioni sono con 8 GB di RAM LPDDR4X e 128 GB di memoria interna UFS 2.1 quindi sotto questo punto di vista sono pressoché identici nell'utilizzo quotidiano entrambi i dispositivi funzionano bene potete tranquillamente utilizzare il Realme 7 come vostro primo smartphone senza dover rinunciare ad una certa o comunque a rinunciare ad avere uno smartphone complessivamente reattivo però nel momento in cui noi andiamo a confrontare la velocità dell'apertura delle applicazioni nel gaming e nella qualità generale proprio del componente in sé il Realme 7 Pro vince anche sotto questo punto di vista perché è uno smartphone più reattivo apre l'applicazione molto più rapidamente rispetto al Realme 7 e naturalmente nel momento in cui noi andiamo a cercare di sforzarlo con il gaming ci troveremo di fronte ad un dispositivo che non lagga o meglio lagga meno rispetto al Realme 7 in quanto ad esempio come state vedendo con Asphalt 9 nel momento in cui noi abbiamo una scena con più macchine il Realme 7 fa fatica potrebbe laggare un pochino non particolarmente cosa che invece il Realme 7 Pro non fa sono differenze per so che minime ma dato che stiamo parlando di un confronto il Realme 7 Pro è sicuramente migliore ora vi faccio vedere rapidamente proprio l'apertura del social network per capire le potenzialità di entrambi i dispositivi prima di tutto non so se dal video si vede ma nelle stesse condizioni quindi con luminosità automatica attivata su entrambi i dispositivi notiamo che il Realme 7 Pro ha una luminosità maggiore infatti abbiamo maggiore luminosità su questo dispositivo rispetto a questo vedete che il livello è sostanzialmente lo stesso ed è anche un aspetto da tenere in considerazione perché il Realme 7 Pro riesce a garantire una luminosità maggiore e un miglior utilizzo sotto la luce solar diretta adesso proviamo ad aprire i social network ci posizioniamo ad esempio su Facebook e vediamo quale dispositivo si carica più rapidamente premiamo entrambi e vedete che il Realme 7 Pro anche di poco però devo dire che riesce a garantire una velocità di apertura dell'applicazione migliore quindi è un segnale che il dispositivo riesce a ottenere una maggiore velocità grazie proprio alla presenza di un processore più performante parlando invece di fluidità chiaramente qui abbiamo 60 Hz qui ne abbiamo 90 e quindi in fluidità teoricamente questa dovrebbe essere migliore però vedete che in termini di usabilità e di utilizzo quotidiano non notiamo una così grande differenza ora proviamo ad esempio ad andare su Instagram e vedere il risultato ottenuto ci posizioniamo qui entrambe le applicazioni sono state chiuse e primo in contemporanea vedete che il Realme 7 Pro l'apre molto ma molto più rapidamente rispetto ad un Realme 7 che parte forte però si incarta nel momento in cui deve aprire l'applicazione quindi anche in questo caso il Realme 7 Pro che è questo qua di sinistra è molto più rapido e come vi ho fatto vedere anche la luminosità è decisamente migliore la connettività poco cambia l'uno dall'altro in quanto entrambi sono wifi 802.11ac dual band quindi 2.4 e 5 GHz bluetooth 5.0 NFC e chip GPS entrambi hanno il jack da 3.5 mm per le cuffie ma una differenza fondamentale la notiamo nella connettività o meglio nella rete in quanto il Realme 7 garantisce un 4G plus almeno teoricamente fino a 300 Mbps mentre il Realme 7 Pro dovrebbe garantire un 4.5 G a 800 Mbps differenze importate ma che naturalmente sono viste solo da un punto di vista della carta o meglio delle specifiche tecniche comunicate dal produttore parlando invece del sistema operativo qui ci troviamo di fronte a due dispositivi praticamente identici perché parliamo di Android 10 con patch aggiornate nel caso del Realme 7 a novembre 2020 e Realme 7 Pro a settembre 2020 e personalizzazione grafica Realme UI alla stessa identica versione quindi in termini di usabilità sono due dispositivi uguali identici non presentano funzioni differenti hanno la possibilità di impostare il tasto di accensione e spegnimento per accedere fisicamente all'assistente Google possiamo utilizzare il gesture e funzionano bene in entrambi i casi e allo stesso modo abbiamo tutte quelle funzioni come lo spazio gioco la possibilità di sdoppiare le applicazioni e quant'altro che abbiamo già visto e stravisto nel corso della recensione ciò stessificare che da un punto di vista del sistema operativo e di usabilità quotidiana i dispositivi sono praticamente identici e non si riscontra un migliore tra i due invece la differenza fondamentale la notiamo proprio nella batteria e nel consumo della carica in quanto il Realme 7 ha un componente da 5000 mAh con ricarica rapida a 30W in grado di caricare il 50% della batteria in circa 26 minuti cosa che invece il Realme 7 Pro riesce a superare fortemente in termini di ricarica rapida perché raggiunge i 65W in grado quindi di passare da uno 0 al 100% sfruttando naturalmente alimentatore e cavo presenti in confezione in 34 minuti però il componente da soli 4500 mAh quindi parlando di durata ricordando che i miei esempi parlano di circa 3 ore e mezza 4 ore di display attivo per un dispositivo della durata media il Realme 7 riesce a raggiungere 6 ore e 51 minuti con il 3% di carica residua contro le 3 ore e 53 minuti con l'1% di carica residua per il Realme 7 Pro una differenza enorme che rende sicuramente il Realme 7 un vero e proprio battery phone contro un Realme 7 Pro che se la cava bene o meglio se la cava nella media però non riesce a raggiungere il livello del fratello quindi sotto questo punto di vista è sicuramente migliore il Realme 7 passando alla riproduzione audio qui abbiamo altoparlanti mono sul Realme 7 quindi viene sfruttato solamente lo speaker posizionato inferiormente e altoparlanti stereo sul Realme 7 Pro quindi viene sfruttato sia l'altoparlante che la capsula auricolare so stessificare sul Realme 7 Pro avremo un volume maggiore una maggiore nitidezza e un buon dettaglio chiaramente non parliamo di altoparlanti di alto livello però in confronto il dettaglio è sicuramente migliore e anche una migliore nitidezza alle alte frequenze cosa che invece il Realme 7 riesce a garantire discretamente ma non a raggiungere il livello del Realme 7 Pro entrambi comunque presentano un carrellino delle sim con tre slot che permetterà quindi l'inserimento di due nano sim e dell'espansione di memoria tramite microSD in contemporanea il comparto fotografico è l'ultimo aspetto da prendere in considerazione per notare grandi differenze tra i due dispositivi perché lo diciamo subito le differenze saranno fondamentali per la valutazione del dispositivo in sé infatti sul Realme 7 abbiamo quattro sensori un principale da 48 megapixel con apertura f1.8 da 26 mm un grandangolare da 8 megapixel con apertura f2.3 da 119 gradi di angolo visuale e 16 mm un sensore bokeh da 2 megapixel apertura f2.4 e un sensore macro apertura f2.4 sempre da 2 megapixel la composizione numerica sul Realme 7 Pro è praticamente identica abbiamo anche in questo caso quattro sensori però il principale sarà da 64 megapixel apertura f1.8 e 26 mm contro il 48 megapixel del Realme 7 il grandangolare sarà addirittura da 32 megapixel con apertura f2.5 e angolo di visuale di 85 gradi ma in aggiunta abbiamo un ultra grandangolare quindi viene rimosso il sensore macro abbiamo un ultra grandangolare con angolo di visuale di 119 gradi che è sostanzialmente lo stesso ultra grandangolare che vediamo sul Realme 7 apertura f2.3 e 8 megapixel per concludere poi con il classico sensore bokeh apertura f2.4 da 2 megapixel la differenza si ha in una maggiore risoluzione in termini di sensore principale e nella presenza di un grandangolare al posto del sensore macro la valutazione del comparto fotografico la suddividiamo per campi partiamo prima di tutto dall'aperto con sensore principale qui chiaramente il sensore presente sul Realme 7 Pro vince alla serrande perché il Realme 7 riesce comunque a realizzare buone istantanee hanno un buon dettaglio comunque in linea naturalmente con la fascia di prezzo e nel contempo riescono comunque a ottenere immagini abbastanza soddisfacenti con una piccola tendenza ad una eccessiva saturazione cosa che invece non notiamo sul Realme 7 Pro perché nel momento in cui noi andiamo già a vedere l'immagine vediamo un'immagine ben fatta ben dettagliata nitida e con un miglior rispetto dei colori il tentativo di superare questa differenza del Realme 7 aumentando la saturazione porta sicuramente ad ottenere un risultato più soddisfacente nel momento in cui ad esempio facciamo uno scatto con una giornata nuvolosa in quanto comunque sul Realme 7 Pro abbiamo colori un po' più spenti però se dovessimo confrontarle da un punto di vista naturalmente oggettivo il Realme 7 Pro riesce a realizzare immagini più dettagliate e sicuramente migliori nel momento in cui noi comunque andiamo a spostarci al chiuso la differenza si nota e devo dire che la valutazione resta sostanzialmente la stessa in quanto le immagini del Realme 7 sono eccessivamente sature e purtroppo si vede un po' più di rumore e nel contempo ha un dettaglio minore rispetto naturalmente a ciò che il Realme 7 Pro è in grado di offrire va detto che le immagini del Realme 7 Pro sono più buie però la nitidezza e il dettaglio sono talmente elevati naturalmente in confronto a quanto è in grado di offrire il Realme 7 che ci portano naturalmente a propendere verso il Realme 7 Pro proprio per una migliore e una maggiore nitidezza un maggiore dettaglio e un'immagine complessivamente più bella passando invece al grandangolare il discorso non cambia perché noi abbiamo sostanzialmente lo stesso ultra grandangolare però da un punto di vista proprio della qualità intrisica dell'immagine vediamo una certa differenza perché il Realme 7 Pro continua sulla buona strada intrapresa nelle precedenti valutazioni ottenendo immagini più dettagliate nitide e con un rispetto dei colori che non notiamo sul Realme 7 in ultimo vi voglio parlare della modalità notturna in quanto entrambe presentano naturalmente questa tipologia di possibilità di registrare un'immagine e le differenze tra uno scatto senza modalità e uno scatto con modalità ci sono in entrambi i casi però come vi ho già detto e non voglio ripetermi all'infinito il Realme 7 Pro riesce a realizzare un'immagine decisamente migliore perché già di base ha un'immagine più dettagliata e più nitida cosa che invece proprio in questo caso sul Realme 7 notiamo una certa sfocatura e una mancanza di nitidezza anche proprio ai bordi dell'immagine stessa mentre sul Realme 7 Pro già di base abbiamo un'ottima immagine che viene ancora migliorata non tanto in termini di luminosità quanto proprio in termini di dettaglio con la modalità notturna quindi da un punto di vista complessivamente fotografico il Realme 7 Pro ha vinto sotto ogni punto di vista e ha vinto in ogni piccolo step che abbiamo visto nella nostra valutazione invece la registrazione video viene in entrambi i casi ottenuta al massimo in 4K a 30 frame per secondo sfruttando in entrambi i casi stabilizzazione elettronica parlando prima di tutto della stabilizzazione il Realme 7 Pro continua sull'ottima strada intrapresa quindi offre una stabilizzazione decisamente migliore perché già di base ricordando che entrambi hanno i vari step di stabilizzazione quindi che passeranno da una stabilizzazione standard ad una Ultra Steady e ad una Ultra Steady Pro ma in tutti i casi il Realme 7 Pro riesce a garantire una stabilizzazione che permetterà di registrare video più stabili anche nel momento in cui noi ad esempio cammineremo per strada perché nonostante comunque lo smartphone sia più piccolo non sappiamo effettivamente il motivo però sicuramente il sensore fa la differenza e quindi in questo caso avremo un'immagine più stabile questo non vuol dire che il Realme 7 non riesca a realizzare buone immagini o comunque registrare buoni video di qualità e abbastanza stabili ma confrontandoli il Realme 7 Pro riesce a fornire un risultato più soddisfacente stesso discorso vale anche sicuramente per la qualità delle riprese in sé sia al chiuso che all'aperto perché con grande luminosità quindi con una giornata abbastanza luminosa noi notiamo sicuramente un miglior rispetto dei colori una maggiore nitidezza ed un maggior dettaglio ciò che vediamo invece su Realme 7 è un tentativo cosa che non avevamo notato in termini di recensione di saturare particolarmente le immagini quindi anche in questo caso come abbiamo già visto da un punto di vista del comparto fotografico il dispositivo tenta di superare i propri limiti puntando molto sulla saturazione però non riesce a raggiungere lo stesso livello garantito dal Realme 7 Pro anche ad esempio con scarsa luminosità nel senso che all'interno di un'abitazione o comunque con luce artificiale il fratello maggiore vince alla grande perché riesce comunque a garantire sempre un'immagine più dettagliata più nitida e con colori maggiormente rispettati e sicuramente un rumore più lieve naturalmente rispetto al Realme 7 anteriormente è stato posizionato un sensore in entrambi i casi con un foro nel display in alto a sinistra ed è un sensore da 16 megapixel con apertura f2.1 su Realme 7 mentre da 32 megapixel con apertura f2.1 sul Realme 7 Pro abbiamo esattamente il doppio dei megapixel quindi ci saremmo sicuramente aspettati un Realme 7 Pro più dettagliato ed è quello che otteniamo ma va detto che la differenza è davvero minima soprattutto all'aperto perché al chiuso devo dire che la differenza è abbastanza importante perché il Realme 7 tende a realizzare uno scatto un po' mosso mentre il Realme 7 Pro un po' meno però nel momento in cui ci troviamo all'aperto quindi con una buona luminosità abbiamo un maggior dettaglio sul Realme 7 Pro che è garantito proprio da un sensore che presenta il doppio dei megapixel ma va detto che il Realme 7 riesce a realizzare ottime istantanee e a scontornare perfettamente il soggetto quindi in termini di qualità del comparto fotografico anteriore il Realme 7 Pro è sicuramente migliore però il Realme 7 si difende molto meglio rispetto al comparto fotografico posteriore ora concludiamo il nostro confronto parlando naturalmente dello sblocco del dispositivo infatti in entrambi case abbiamo riconoscimento del viso 2D e sblocco con il sensore dell'impronta digitale però sul Realme 7 il sensore posizionato sul bordo o meglio sul tasto di accensione e spegnimento in contraposizione con il sensore posizionato sotto il display grazie proprio al display AMOLED sul Realme 7 Pro ora li vediamo da vicino e cerchiamo di capire quale effettivamente è il più veloce per una volta partiamo prima con il riconoscimento del viso 2D ora li mandiamo si sbloccherà per primo li riprendiamo e vedete che in entrambi i casi comunque otteniamo uno sblocco decisamente rapido però va detto che il Realme 7 che è questo sulla parte sinistra molte volte passa nella schermata di sblocco e lo vedete mentre il Realme 7 Pro si sblocca direttamente senza passare dalla schermata di sblocco anche se devo dire che in termini di velocità forse in alcuni casi il Realme 7 è più rapido quindi parlando da un punto di vista puramente dello sblocco con il viso 2D il Realme 7 è più rapido del Realme 7 Pro lo sblocco con l'impronta è molto diverso l'uno dall'altro infatti abbiamo il sensore per le impronte digitali sul tasto di accensione e spegnimento su Realme 7 e sotto il display lo trovate esattamente a questa altezza su Realme 7 Pro però la differenza è anche in questo caso minima perché nel momento in cui io li mando in stand by tutte e due vedete che posiziono il dito e si sbloccono praticamente all'unisono in alcuni casi faccio un po' fatica sul Realme 7 perché faccio fatica a proprio posizionare correttamente il dito però nel momento in cui vado a posizionare correttamente vedete che comunque si sbloccano complessivamente in maniera abbastanza rapida e come abbiamo già visto sul riconoscimento del viso 2D anche in questo caso il Realme 7 è più reattivo nel momento in cui vado a posizionare correttamente il dito riesce a sbloccare più rapidamente rispetto al Realme 7 Pro quindi in termini di riconoscimento del viso e di sblocco con impronte digitali il Realme 7 è migliore in conclusione il Realme 7 Pro è sicuramente migliore del Realme 7 e consiglio caldamente l'acquisto del 7 Pro perché la differenza c'è ed è notevole sotto tanti punti di vista infatti l'unico aspetto su cui il Realme 7 vince sul 7 Pro è chiaramente la batteria perché ha un componente più grande e garantisce chiaramente una durata incredibile ma per il resto se dovessimo proprio davvero confrontarli il Realme 7 Pro è migliore in termini di dimensioni perché è più sottile più leggero e più maneggevole è migliore sotto il punto di vista del display perché chiaramente abbiamo un AMOLED che ha un maggior rispetto dei colori di tutte le tonalità e ha un maggiore dettaglio in confronto comunque ad un buon IPS LCD che guadagna posizioni proprio per il suo essere a 90 Hz quindi è davvero una frequenza di aggiornamento più elevata e una fluidità che tanti altri dispositivi di questa fascia di prezzo non hanno però chiaramente le differenze di qualità complessiva tra un AMOLED e un IPS LCD seppur buono ci sono stesso discorso vale proprio per il processore perché il Realme 7 Pro è un po' più rapido non diciamo che il Realme 7 sia troppo lento però se dovessimo davvero metterli uno di fianco all'altro come abbiamo visto nel video il Realme 7 Pro è un po' più rapido rispetto al Realme 7 la differenza maggiore però l'abbiamo notata da un punto di vista fotografico perché entrambi hanno all'incirca gli stessi sensori in termini numerici ma cambia naturalmente il megapixel perché con il Realme 7 Pro andiamo a 64 megapixel con il Realme 7 ci fermiamo a 48 ed è questa differenza del sensore principale non solo in termini proprio del quantitativo di megapixel su cui si basa tutto il comparato fotografico in quanto come avete visto nel confronto il Realme 7 Pro è più dettagliato ha un maggior rispetto dei colori e ha una nitidezza che il Realme 7 in ogni condizione di luce non è in grado di offrire la stabilizzazione nella registrazione video anche in questo caso è differente e la resa chiaramente rispecchia quanto abbiamo appena detto da un punto di vista fotografico ciò sta a significare che se volete acquistare uno smartphone spendendo poco e volete acquistare uno smartphone che sia rapido abbia un buon display e abbia un comparto fotografico di tutto rispetto allora il Realme 7 Pro fa sicuramente al caso vostro allo stesso modo però dobbiamo segnalare che il Realme 7 ha una migliore batteria ciò sta a significare che se invece state acquistando uno smartphone volete spendere poco non avete troppe pretesi quindi vi basta un IPS LCD a 90 Hz vi basta un processore che comunque se la cava è un Mediatek pensato per il gaming però comunque nell'utilizzo quotidiano è più che sufficiente e volete un vero e proprio battery phone allora dovete andare direttamente su Realme 7 perché questa è la sua caratteristica principale non tanto il resto quindi non tanto la velocità o comunque il comparto fotografico il confronto complessivamente lo vince chiaramente il Realme 7 Pro perché è sicuramente migliore la batteria come abbiamo detto è inferiore però raggiunge comunque un livello sufficiente tale per cui si possa garantire un utilizzo continuativo anche per due giorni consecutivi se il nostro video vi è piaciuto vi invito a mettere un mi piace qui sotto naturalmente iscrivetevi al nostro giornale per essere sempre aggiornati su tutti i futuri video grazie a tutti